Grazie a tutti. Come distinguere il peso e il ruolo che ha ogni elemento all'interno di una frase? Scoprirai l'alchimia con la quale si sprigiona il senso globale di una frase. Grazie al corso non solo potrai rafforzare le tue conoscenze grammaticali della lingua italiana, ma ti sarà più facile studiare e imparare altre lingue. Che aspetti? Iscriviti subito! Grazie a tutti.